Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video volantino Eurospin, la spesa intelligente, la settimana che va dal 14 al 24 novembre. Questo volantino è un po' particolare e birichino perché ha tolto alcune cifre, quindi dovrà essere interpretato. Mi dispiace, cari utenti, ma meglio di così non sono riuscita a trovare. Comunque, in prima pagina abbiamo subito il tonno in offerta a 99 centesimi, il grana padano 8,99 euro al chilo e la confezione da 150 grammi di prosciutto cotto a 1,25 euro. Poi, nel weekend del 15-16 novembre, spendendo 30 euro di spesa e aggiungendo 1 euro alla cassa, vi verrà consegnata una candela profumata, secondo dell'assortimento e della disponibilità che c'è nel punto vendita. Vado adesso a sfogliare e a mostrarvi cosa questo volantino ci va ad offrire in questi 10 giorni. Come vi dicevo, alcune cifre non le mostra, ma tendenzialmente sono quasi tutti 0, o laddove non sono 0 sono 1, quindi dobbiamo un po' interpretarli, mi dispiace. Vado a ingrandire e a mostrarvi nel dettaglio i prodotti che sono in offerta. Troviamo il salame ungherese da 350 grammi a 2,39 euro anziché 2,99 euro, lo specca stick a 1,19 euro anziché 1,49 euro, il wurstel pollo e tacchino, la confezione quella grande a 45 centesimi anziché 59 euro. Poi abbiamo le fettine di formaggio fuso 16 pezzi a 1,19 euro. Scendendo in basso troviamo l'emmental bavarese a 1,79 euro, la confezione di mozzarella da 4 per 125 grammi a 2 euro e... Sarà 39, sarà 29, il toto mozzarella, comunque di solito lo sconto siamo sempre sui 40 centesimi, quindi potrebbe essere anche 2,29 euro. Poi ci sono tagliatelle, tagliolini, pappardelle all'uovo a 79 centesimi anziché 99 euro. I sughi pronti che sono qui con il pesto senza aglio e il pesto con aglio a 85 centesimi. Poi c'è il sorbetto al caffè fresco nel banco frigo a 2,49 euro, lasagne a ragù da 1,00 a 3,19 euro, la merenda quella alla frutta e formaggio a 59 centesimi. Poi lo yogurt gusti assortiti con i cereali a 39 centesimi anziché 49 euro e il bifidus a la prugna o al mirtillo a 55 centesimi anziché 69 euro. Su quest'altra pagina troviamo il colform 4 per 100 grammi, qui penso che sia 1,25 euro anziché 1,79 euro. La panna fresca a 95 centesimi, i formaggini e il parmigiano reggiano a 85 centesimi. Poi abbiamo l'offerta limitata delle uova ad allevamento a terra a 15 pezzi a credo 1,95 euro. In basso troviamo la lattina di polpa di pomodoro a pezzetti a 29 centesimi, il riso carnaroli a 49 centesimi anziché 89, non credo, forse 1,49 euro. Pasta di gragnano a 59 centesimi, sono formati assortiti e la pasta di semola di grano integrale, che sono solo 3 formati, a 49 centesimi. Scendendo giù abbiamo le bustine di zafferano a 99 centesimi, le olive verdi denocciolate a 59, i carciofini spaccati sott'olio a 95 centesimi, il pane per tramezzino a 75, i filetti di salmone al naturale a 2,29 euro. Questo lo so perché quando lo metto in offerta è sempre 2,29 anziché 2,89, i fagioli cannellini a 29 centesimi anziché 35, i capperi all'aceto di vino a 75 centesimi. Girando pagina troviamo ulteriori offerte dispensa, andiamo a ingrandire. Patatine classiche a 69 anziché 89 centesimi, noci sgusciate da 300 grammi a 2,49 euro, si stanno portando avanti come quelli della Lidl. Cuor di caffè a 1,29 euro, poi le trecce con i granelli di zucchero a 1,49 euro, il multigrain cioccolato fondente o frutti rossi a 1,39 euro anziché 1,75 euro, ho visto che hanno cambiato anche il packaging. Poi ci sono le bibite cassata aranciata o coca a 0 a 39 centesimi, la bottiglia da un litro e mezzo, bevanda multivitaminica o ai frutti di bosco a 79 anziché 99 centesimi, poi succo e polpa di frutta assortiti, le confezioni da 6 per 200 millilitri a 69 anziché 99 centesimi, e poi ci sono due assortimenti di muffin al cioccolato o alla stracciatella a 1,29 euro. Scendendo in basso troviamo la birra premium da 500 millilitri a 49 centesimi, la bottiglia a 65 anziché 79 centesimi, poi il boccione di vino Montepulciano d'Abruzzo a 6,49 euro anziché 7,99 euro, e il whisky a 5,49 euro. Andando su quest'altra pagina, sempre dispensa, troviamo i piatti multiuso per il microonde a 2,29 euro, i tovaglioli monovelo a 1,19 euro, l'asciugatutto 3 rotoli 2 veli a 1,49 euro anziché 1,89 euro, qui l'Eurospin mi sa che ha alzato un pochino i prezzi, poi riabbassandoli, fazzoletti delicati 99 centesimi, la carta igienica profumata 6 rotoli da 3 veli a 1,99 euro, lo smacchiatore oxy blu a 2,29 anziché 2,99 euro, poi c'è il lavapavimenti a 99 centesimi anziché 1,29 euro, con varie profumazioni, lavanda e bouquet, poi ci sono le tabs lavastoviglie multifunzione 100 pezzi a 4,99 euro, il detergente piatti a 79 anziché 99 centesimi, poi c'è il liquido lavatrice limino odore a 2,29 euro, la mousse sgrassatore con candigina a 99 centesimi, le batterie silo alcaline power tech a 1,29 euro, poi ci sono gli stick per il cane da 10 pezzi pollo o manzo a 1,19 euro, e i bocconcini in salsa per gatto multibox da 12 pezzi a 2,39 euro. Voltando pagina troviamo i surgelati e andiamo a vedere che cosa propone l'Eurospin per quanto riguarda il reparto surgelati. Le fave da 600 grammi a 1,59 euro anziché 1,99, funghi misti a 1,89 euro, il minestrone 16 verdure a 79 centesimi, filetti di platesse impanati da 300 grammi a... questo proprio non lo so, io credo che sia 1,99 comunque ragazzi, misto di mare 1,19, code di mazza ancolla 3,99, perché qui fanno di solito lo sconto di 1 euro o 1,50 euro, quindi potrebbe essere anche 2,99, filetti di merluzzo atlantico 4,79, e poi ci sono i tranci di pesce spada 4,99, poi ci sono le cotolette e gli spinaci o di pollo a 1,59 la confezione, primi piatti assortiti a 1,99, poi ci sono i tranci di pizza con gli ovali integrali o con patatine e wurstel a 1,49, la torta gelato da 750 grammi a 3,99 euro. C'è sempre qui il signore che ci dice che altro consumo l'ha approvato il discount come salva prezzo in Italia, e cambiamo pagina, troviamo nel dettaglio, in questa pagina frutta e verdura e in offerta troviamo le clementine a, penso, 1,29 euro al chilo, broccoletti 79 centesimi il pezzo, insalata gran mista 99 centesimi, scendendo giù troviamo i kiwi a 1,29 euro al pezzo, la melagrana a, penso, 99 centesimi il chilo, e mele golden delicious a 99 centesimi il chilo. Venendo su quest'altro lato troviamo la macelleria, sempre alcuni prezzi da interpretare, comunque è la prima cifra, quella importante, quindi la polpa per il brasato e bollito 7 euro al chilo, il macinato per ragù, non lo so, questo potrebbe essere 2,99 ma anche 3,99, chi lo sa, lo scopriremo solo andando al telemercato, fettine scelte di vitello 12,99 al chilo, fuse e sovraccosce di pollo 3,29 al chilo, poi salsiccia con tacchino pollo e suino 2,39 e lonza rissa di suino a tranci 5 e boh 29,39 al chilo, non si sa chi lo sa. Le nostre stelle, petto di tacchino arrosso a 2,19 euro, bresaola punta d'anca confezione da 100 grammi a 2,99, tortelle e la zucca da 250 grammi a 1,59 euro. Ragazzi, questo video volantino alternativo proprio. Sapore in festa dal 14 novembre, vediamo un po' cosa ci propone l'Eurospin, offerta limitata, sugo e crostacei a 2,19 euro, i bocconcini elastici a 1,79 euro, lardo a 2,29 euro, poi qui che c'è? Parmigiano reggiano d'op grattugiato da 165 grammi a 2,25 euro, ma chi può dirlo ragazzi miei? Poi c'è il trancio di salame felino, questo proprio ha talto tutte le cifre, quindi c'è, proprio non sappiamo quanto costi, ma sito, perché fai così? Vabbè, Ragusano d'op ha, credo, boh, sarà 10,99 euro al chilo forse, gli agnollotti piemontesi a 1,99 euro, questo volantino, questa settimana ragazzi, veramente è una comica, uova di lompo assortite, ma chi è che compra le uova di lompo assortite? Comunque, penso che siano, boh, 1,49 euro al pezzo, può essere, battuti assortiti, venivano 99, quindi saranno 79, forse, ragù d'anatre di capriolo, 2,79, vabbè, qui si parla di selvaggina, poi c'è la crema catalana, 2 da 100 grammi, credo 1,49, tagliatelle fettuccine all'uovo da mezzo chilo, forse 1,69, poi abbiamo l'olio extravergine di oliva, 5,99 per un litro, poi le, il tris qua, di sali pregiati assortiti, da 60 grammi, questo veniva, se non erro, io non me lo ricordo, lo compro sempre, credo 6,29, però non ne sono sicura, poi c'è l'offerta limitata, di capsule assortite, 30 pezzi, con due bicchieri in omaggio, a 9,99 euro, con le belle scatoline di latta, da selezionare, con la tipologia, gran crema o espresso, e sempre appunto, e poi questo qui sopra, che non lo so che cos'è, penso il decaffeinato, che forse è più carino, a livello di scatole, aspettate che a me, mi ha girato la pagina, e niente, quindi questo è un bel, come si dice, un bel regalo, se voleste anticiparvi sul Natale, ovviamente sono, le capsule, credo, ma non lo specifica, forse quelle dell'Anne Espresso, non lo so, dal disegno, sembrano quelle dell'Anne Scafè, queste di sopra, queste di sotto, sembrano invece quelle dell'Anne Espresso, quindi non lo so, e anche la lavazza, forse le hanno tutte e tre, vabbè, andate in negozio e vedete, poi invece, su quest'altra pagina, troviamo ancora Sapore in Festa, e c'è un bel assortimento, di cioccolati, e troviamo cioccolati e biscotti, a 1,89 euro, i frullini con cacao e nocciole, o cacao e panna, poi a 1,39 euro, quelli glassati, mentre a 89 centesimi, le sfoglie di cioccolato, gusti assortiti, scendendo in basso, troviamo cioccolato extra fondente, al 90%, 95 centesimi, cioccolato con biscotto a 79, la confezione da 250 grammi, di gianduiotti assortiti, a 3,49 euro, poi inizia nei cesti gastronomici, per essere regalati, o ricevuti a Natale, ci sono questi da 10 pezzi, a 5,99 euro, che forse sarà 15,99 euro, non sono sicura che sia 5,99 euro, a 24,99 euro, c'è invece questo cesto con 15 pezzi, su quest'altro lato, troviamo, ovetti con crema a latte e nocciole, che questo credo sia una novità, dell'euro spin, a 1,49 euro, torroncini classici, alle mandorle, 1,19 può essere, non si sa, andare lontano, Teleton, anche il Duca Moscati, partecipa a questa fondazione, elargendo, credo, la moneta, infatti dice, acquistando questi prodotti, contribuirai con noi ad alimentare, la ricerca sulle malattie genetiche rare, quindi acquistando panettoncini, o pandorini, a 89 centesimi, una quota andrà, pro fondazione Teleton, poi scendendo in basso, troviamo, le ragostine, i cannoncini ripieni a 1,59 euro, i cremini a 6,99 euro, la confezione è da 700 grammi, poi nocciolato con nocciole, fondente o latte a 1,99 euro, il tronchetto natale, triplo cioccolato, a, quanto sarà? 2,59 euro o 3,59 euro, chi lo sa, poi tovaglia di carta a 1,99 euro, dolce profiterola a 4,99 euro, il terrone classico, le mandorle 2,29 euro o 2,19 euro, e non lo so ragazzi miei, mi dispiace da morire, ma non dipende da me, poi offerte limitate, sempre da giovedì 14 novembre, inizia appunto l'abbigliamento, quello un po' più invernale, quindi a, penso, 14,99, il piumino uomo donna, offerta shock, ma potrebbe essere anche 24,99, a questo punto, poi c'è il maglione uomo, a 14,99, la camicia di flanella, se volete insomma risvegliarvi, i boscaioli, a 14,99, la maglia donna a collo alto, 14,99, la t-shirt donna a 6,99, poi c'è il body donna, spalla larga a 6,99, le ciabattine a 9,99, sia quelle da donna stampate, che quelle classiche da uomo, poi troviamo anche un paio di scarpe, sempre scarponi polacco, a, non lo so, penso sia 29,99, ma potrebbe essere anche 19,99, insomma ragazzi, un po' a interpretazione, poi troviamo felpe maniche lunghe, con zip a 19,99, la maglia termica da uomo e donna, a 12,99, scendendo in basso, troviamo anche i pantaloni, a 12,99, le calze corte o lunghe, a 3,99, e 4,99, in quest'altro lato, troviamo maglia termica, collo alto uomo e donna, a 14,99, poi tutto il set, cappelli berretti sciarpette, da 4,99 a 5,99, poi ci sono sempre maglie e pantaloni termiche, a 9,99, e le scarpe da trekking, a 25,99 il paio, come abbiamo capito, è tutto un 0,99 ragazzi, alla fine dei conti, poi, sulla pagina successiva, c'è tutto un decoro natalizio, perché arrivano gli addobbi, e i giocattoli per Natale, quindi nel dettaglio, andiamo a guardare, cosa offre l'Eurospin, ovvero, l'albero di Natale, da 180 cm, a 19,99, la punta stella, 1,99, poi ci sono vari tipi di abeti, da 39,99 a scendere, fino a 6,99, come così, ci sono anche set, decorativi, da, in plastica, di varie misurazioni, da 2,49 a 1,99, e così via, ci sono anche le luminare a led, che è a seconda della metratura, e delle lucine, che contiene a un prezzo, ovviamente, quindi ci sono le catene, da 8,99, con 180 luci led, poi ci sono quelle da 100 a 6,99, scendendo, ci sono quelle da 400 led, a 12,99, e ci sono quelle da 100, ma a batteria, a 5,99, ci sono anche poi, gli abbigliamenti, per i nostri amici a quattro zampe, ovviamente, tema natalizio, a 4,99 euro, costume di babbo natale, a 5,99, vari nastri decorativi, a 1,49, e i vari set, per fare i pacchetti, con le coccarde, i fiocchi, e i bigliettini d'aguri, da 0,89 a 3,49, poi venendo su, quest'altra pagina, troviamo, iniziamo a trovare, i giocattoli, penso da 0 a 12, 24 mesi, ma anche più su, con ovviamente, il bollino arancione, perché sono acquistabili, anche sul sito, dell'Eurospin, voltando pagina, troviamo tutte le offerte, per la montagna, e per le vacanze, invernali, ma anche, per andare, nelle città d'arte, o alle terme, e poi, sull'ultima pagina, troviamo, il weekend di follia, dove l'Eurospin, ci offre, le arance navelle, a 79 centesimi, il chilo, le patatine da forno, da 750 grammi, a 89 centesimi, la confezione, poi il burro bavarese, da 250 grammi, a 1,09 euro, i taralli, con olio extravergine, di oliva, a 95 centesimi, e solo da sabato, 23 novembre, due offerte shock, forno a microonde, con grill, candy, a 59 euro, e 99, mentre, a 29,99, troviamo, la macchina, da stiro, termo z, con la vaporiera, con il serbatoio, insomma, quindi, queste due offerte, le trovate, solo da sabato, 23 novembre, questo video volantino, è stato, veramente, un parto, e io, spero di avervi tenuto, compagnia, mi dispiace, che non si vedano, tutte le cifre, ma tanto, chi è abituato, a questi prezzi, conosce bene, anche la scontistica dell'Eurospin, io vi auguro, una felice e buona domenica, vi rimando al prossimo video, vi ringrazio di aver guardato questo, e vi do un grande abbraccio, ciao, alla prossima!